Good evening guys, è appena finita la prima semifinale di Champions League fra Ajax e Tottenham Io sono qui, anzi fra Tottenham e Ajax e io sono qui per parlarvi insieme a voi Però prima di iniziare a farlo, vi invito a lasciare un commento, un'iscrizione al canale e anche un'iscrizione su Instagram Intanto il grandissimo ciccio mi chiama, ma adesso no che sto facendo il video Ragazzi, vince clamorosamente col gol di Van de Beek l'Ajax Clamorosamente non tanto perché ha giocato secondo me nel complesso meglio l'Ajax Che comunque ha dimostrato un ottimo calcio, la squadra di Tenag nella prima parte del primo tempo ha davvero dominato Ha davvero schiacciato la squadra di Pocettino che sembrava essere completamente in bambola Una squadra che non si è ripetuta come sui livelli dell'Etiad Stadium e comunque della partita d'andata dei quarti Comunque c'è da dire che l'assenza di Son e di Kane si è fatta sentire assai rispetto all'Ajax che invece aveva, era diciamo a pieno organico Comunque la squadra di Pocettino che non aveva tantissimo, cioè il gioco della squadra di Pocettino era Alderweire e Dovertonghen che la buttavano su verso Llorente Lapiava Llorente o non lapiava Llorente e arrivavano sempre sulla seconda palla comunque Però Innanzitutto ho qualcosa da puntare al VAR perché a mio avviso il gol era da annullare Nel senso che c'era un Diciamo che la scarpa di Van de Beek era leggermente Oltre la linea dell'ultimo difensore Quindi a mio avviso il gol era da annullare di pochissimo E sta cosa mi puzza un pochino perché comunque abbiamo visto come in Serie A con Nell'ultima partita che c'è stata ovvero quella fra Fiorentina e Sassuolo C'è stato un gol annullato proprio per un fuorigioco millimetrico Quindi non so Comunque ragazzi sicuramente l'Ajax per il ritorno parte nettamente favorita Ha il fattore campo a favore Questo gol che vale doppio Quindi dico vabbè Più che altro il Tottenham dovrebbe vincere comunque La partita per forza Dico L'1-0 non gli cambia tutto sto granché Ecco dai Certo Sarà molto difficile per la squadra di Allenata da Tenag Che comunque ritroverà Hugmisson Che si è fatto A muire con un coglione Nella Contro All'Ethiad Contro il City E non so se troverà di nuovo Kane Comunque ragazzi ritorno sarà fra una settimana Domani vi aspettano tanti altri contenuti sul mondo dello sport In particolare del calcio Domani si occuperà del post partita Credo C Credo Anthony E loro sono tornati dalla crociera Quindi noi Detto questo ci vediamo a un prossimo video Ciao ciao